La tranquillità di via Giovanna da Durazzo a Bitonto è stata interrotta ieri sera da un incendio che ha completamente avvolto un appartamento al primo piano del civico 35. La rapida risposta delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco è impedito che l'incidente assumesse proporzioni più gravi, mentre i residenti della zona sono mobilitati per aiutare le famiglie coinvolte. L'incendio, apparentemente causato dal malfunzionamento di una stufa, ha gettato nel panico gli abitanti del condominio. Famiglie in pigiama sono corse ripari, rifugiandosi nelle auto parcheggiate in strada, mentre altri, in ciabatte, osservavano increduli le fiamme che divoravano l'appartamento. L'intervento tempestivo di due agenti del commissariato di polizia di Bitonto è stato cruciale per garantire la sicurezza degli occupanti dell'appartamento in fiamme. Prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco, i coraggiosi agenti hanno sfondato la porta e portato in salvo una donna con difficoltà motorie e i suoi due figli, insieme al loro fedele Cagnolino. Un gesto di eroismo che ha evitato una tragedia e dimostrato il valore del pronto intervento delle forze dell'ordine. I condomini dei piani interessati dalle fiamme sono stati prontamente evacuati, mostrando un esemplare spirito di solidarietà. La comunità si è infatti unita nell'assistere chiunque avesse bisogno di aiuto, dimostrando che, anche di fronte al pericolo, l'unità e la solidarietà possono superare ogni ostacolo. L'arrivo delle tre autobotti dei vigili del fuoco ha segnato l'inizio dell'operazione di spegnimento, che ha richiesto quasi un'ora per essere completata. Grazie alla professionalità e all'edizione degli uomini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, l'aria è stata messa in sicurezza, evitando il propagarsi delle fiamme ad altri appartamenti. Non sono mancate le ambulanze del 118, intervenute per soccorrere i tre occupanti dell'appartamento, che hanno inavvertitamente inalato fumi tossici durante l'incendio. La prontezza dell'assistenza medica ha contribuito a garantire la salute delle persone coinvolte.